Per Rete Zero dalla sede Amil di Rieti per parlare della 67esima giornata nazionale per le vittime degli incidenti sul lavoro che sarà celebrata il giorno 15 ottobre 2017. Cambiamo la storia, ne parliamo con lei che è la responsabile della segreteria Amil, la dottoressa Silvia Patacchiola. Che cosa accadrà domenica 15 ottobre a Rieti? Una cerimonia civile in comune alle ore 9 e mezzo dove parleranno le autorità locali e la dirigente INAIL della sede di Rieti in cui verranno affrontate le tematiche inerenti alla sicurezza sul lavoro e in particolar modo ci sarà una piccola cerimonia significativa in cui l'INAIL onorerà i grandi invalidi del lavoro di un brevetto e di istintivo d'onore. Poi successivamente alle 11 e mezzo ci sarà una messa presso la cattedrale di Santa Maria di Rieti celebrata dal vescovo Domenico Pompili e al termine della messa un piccolo corteo partirà dalla cattedrale verso i portici del comune dove verrà depositata una corona d'alloro sotto la targa dedicata appunto alle vittime del lavoro. Ma soffermiamoci su un concetto che viene sottolineato dall'AMIL investiamo in sicurezza, diamo valore alla vita. Nel 2017 ancora troppe vittime sul lavoro, ahimè anche troppi giovani che perdono precocemente la vita per ragioni che potrebbero essere facilmente superabili con maggiore attenzione e rispettando le norme che ci sono. Assolutamente sì, concordo con questo pensiero e vi aspettiamo numerosi per manifestare insieme e per dare diciamo una maggiore preziosità alla nostra giornata, alla nostra 67esima giornata. E concludiamo con una buona notizia, chi non potesse venire potrà seguire comunque la messa celebrata da sua eccellenza Monsignor Domenico Pompili, vescovo di Rieti, in diretta sul canale Facebook di Rete Zero. Perfetto, assolutamente sì. E allora a presto per gridare più forte che mai da questo splendido evento del 15 ottobre 2017 cambiamo la storia, investiamo in sicurezza, diamo valore alla vita.